Buonasera amici di Urban Week, come sempre noi siamo forieri di sorprese e quindi questa sera siamo contenti di avere con noi Salvo La Rosa, patron di Insieme. Intanto grazie per questa chiacchierata. Intanto grazie a voi perché avete scelto me per questa intervista e quindi vi ringrazio. Per una volta si capovolgono i ruoli, non sono io a intervistare. Vediamo come vada intervistato. Come finisce su Kunta, diciamo, insomma. Andrà sicuramente benissimo, a noi diverte molto questo scambio di ruoli stasera. Insieme compie 17 anni a novembre. Qual è secondo lei il punto di forza di un successo così longevo? Ancora più longevo perché quella che stiamo vivendo è la diciottesima stagione, in quanto abbiamo iniziato l'11 novembre del 1994, per cui quella in corso è la diciottesima stagione e devo dire che non sembra vero neanche a me per la verità. Nessuno si poteva aspettare un futuro così importante e roseo per una trasmissione televisiva che ha superato le 2600 puntate, che ha fatto appunto 17 stagioni e mezza, che ha fatto anche 7 o 8 tournée estive, che va in tutte le piazze siciliane e che adesso attraverso il satellite arriva anche nel resto d'Italia e nel mondo. Però siamo contenti, vuol dire che il prodotto funziona, il pubblico ci segue, vuole divertirsi, trova in questa trasmissione uno svago che devo dire in questi momenti così tristi e difficili e anche importanti. Io dico sempre che il complimento più bello che la gente possa farci è proprio questo. Lei, signor La Rosa, ogni sera ci fa compagnia con allegria, con simpatia e questo è un periodo tra l'altro di grandi solitudini che non appartengono solo agli anziani o a quelli più anziani ma anche purtroppo ai giovani, per cui fare compagnia alla gente mi piace e speriamo di poterla fare almeno per altri 18 anni, chi lo sa. L'affetto anche degli italiani all'estero è stato molto grande, infatti insieme è stato in tour in Germania, in Australia due volte e negli Stati Uniti. Ci sono altre tappe a essere in previsione? Abbiamo fatto la Germania, Svizzera, Australia e Stati Uniti, come appunto hai detto bene tu. Torneremo ancora negli Stati Uniti quest'anno, ci sono altre possibilità anche di andare nel nord Italia perché non dimentichiamoci che in Veneto, in Piemonte, in Lombardia e in molte regioni italiane ci sono tantissimi siciliani, tantissimi calabresi che vogliono vederci, che vogliono seguirci, molta gente del sud che vuole stare con noi. È un ulteriore successo che ci riempie il cuore di gioia, come dicevo prima il satellite, internet, lo streaming ci hanno permesso di arrivare anche in posti molto lontani come ad esempio in Australia. È un impegno che prendo sempre con i siciliani, cercheremo di tenere legato proprio questo cordone umbilicale tra voi che vivete fuori e che volete sempre tornare qui e questa meravigliosa e martoriata terra che è la Sicilia. Lei si occupa anche di buona parte dei social network relativi a insieme. Posso chiedere come reputa queste nuove possibilità offerte da questi mezzi di interazione assolutamente nuovi? Allora, intanto ha diventato un giavaglio perché io non ci volevo credere e sono arrivato come sempre in ritardo a queste cose perché sono un po' troglodita con internet, però alla fine mi sono dovuto, come dire, non ricredere, ma mi sono dovuto dedicare anima e cuore a questi esperimenti che sono veramente straordinari. Però ha diventato un giavaglio perché se vuoi veramente tenere questo cordone umbilicale legato, questo feeling, questo rapporto diretto con la gente, lo devi curare perché poi il pubblico non va mai preso in giro né attraverso la televisione, né attraverso internet, né attraverso il rapporto diretto. Il pubblico va rispettato perché è quello che ti permette poi di andare avanti, di vivere, che sta davanti alla televisione per te, che viene ai tuoi spettacoli per te, per i tuoi ospiti, quindi va sempre rispettato e mai preso in giro. Per cui quando ho cominciato a tenere aperto il social network che è Facebook, l'ho fatto col cuore, siamo arrivati a 28 mila iscritti in appena un anno, si chiama Salvo la Rosa insieme fan club ufficiale e tutti coloro i quali scrivono comunque nel giro di un paio di ore ricevono una risposta e sono io personalmente a darla anche perché poi mi piace mettere le mani, come dire, in tutte le cose che faccio perché se il rapporto è diretto, è diretto, altrimenti diventa mediato e non serve più. Adesso ho aperto anche Twitter, tra un poco mi apro una solumeria, poi un bar, poi una casa del pesce e quant'altro mi possa permettere di stare sempre a contatto. No, scherzo, lo farei anche volentieri perché mi piace il contatto con la gente. Però adesso ho cominciato con Twitter che non conosco bene, però cominciamo anche lì. È chiaro che li devi raggiungere, li devi tenere sempre coinvolti, tutti coloro i quali ti seguono e ti vogliono bene. Io dico sempre che Dio vi benedica perché lo diceva mia nonna che quando mi salutava, sia quando io arrivavo, sia quando mi andavo, mi dicevo Signore te benedici, Dio te benedici perché mi affidava, lei che mi voleva bene, appunto alla protezione divina. E quindi questa cosa mi è rimasta e io mi auguro che tutto il nostro pubblico possa vivere bene, insomma possa stare bene, anche se so che sono momenti sinceramente molto complicati. Andiamo a conoscere un po' meglio Salvo La Rosa. Io so che la carriera giornalistica, a piacere Mauro Ricciardi, la carriera giornalistica inizia molto presto, in terza media, con una cronaca di una partita di pallone. Ci racconti un po' l'aneddoto? Io sono antico, come si dice, nel senso che quella telecronaca, quella radiocronaca è assolutamente vera. L'ho fatta nel 75-76, io ero in seconda media e ho commentato dal cortile dell'Istituto Salesiano, San Francesco di Sales e di Via Cifali, la finale del campionato di terza media, che era terza A contro terza B, Fly contro Stiga. Allora, con un mio compagno di scuola, Claudio, detto Claudio testa grossa, perché aveva una testa tanta, ma era una testa tanta piena di materia grigia, perché era bravissimo, lui nelle cose tecniche, perché riusciva a costruire trasmettitore. Allora cominciavano le prime radio private, lui costruì un trasmettitore in modulazione di frequenza che ci permetteva di fare una radiocronaca dal cortile dei Salesiani a Piazza Santa Maria di Gesù. Penso che non ti sentisse oltre, forse allo Stadio Cibali non arrivavamo. Io realizzai questa radiocronaca, che devo dire venne anche molto bene, vinse la Stiga per 3 a 1, se non ricordo male, e quella fu la mia prima radiocronaca. Poi a seguire, qualche anno dopo, nel 78-79, ho condotto uno show organizzato sempre dai Salesiani, un galà per la Croce Rossa, ricordo che venne il Catania di Barlassina, De Petrillo, quello che poi venne promosso dalla Serie C alla Serie B, c'era Pippo Baudo, c'era Turi Ferro, c'era Pippo Pattavina, perché i Salesiani sono sempre molto coinvolgenti. Ricordiamoci che Don Bosco era un saltimbanco, insomma era uno che attraeva i ragazzi e attirava i ragazzi all'oratorio giocando con loro, facendo proprio i giochi da saltimbanco, da giocoliere, perché li toglieva dalla strada e li portava all'oratorio e quindi li salvava anche da un destino magari crudele. Per cui i Salesiani in questo sono stati importanti perché mi hanno appoggiato. Io studio a Chiavo, devo dire, ero anche abbastanza bravo, però il mio pallino era quello, era il giornalismo, era fare il giornale della scuola, era fare le recite, insomma, buddiliare, nel senso più simpatico del termine, però siccome loro vedevano in me questa indole, questo talento, non mi hanno mai frenato. Io li ringrazierò sempre per tutta la vita, anzi mi hanno invogliato. Per esempio il violinista che c'è da me, che è Angelo Di Guardo, uno dei due violinisti in Genese, era mio compagno di scuola, non andava a scuola, andava a scuola malissimo, però era già un bravissimo e talentuoso violinista. Allora uno dei professori, un po' per scherno e un po' perché gli voleva bene, diceva andando a suonare violino, va a non studiare più. Ma aveva ragione, quindi ecco, grazie ai Salesiani che hanno visto lontano. Quindi ho cominciato lì e poi però diciamo che dal 79, dal dicembre del 79 ho cominciato a lavorare prima alla Sicilia e poi ad Antenna Sicilia. Il mio primo articolo sulla Sicilia è stato pubblicato il 25 gennaio del 1980, quindi sono passati 32 anni adesso, 31 di televisione. Beh, largo ai giovani, alle belle ragazze, andate molti voi. Mi piace adesso poter raccontare veramente più di 30 anni di carriera, credo normale, insomma, fatta con passione, con volontà, con sacrifici, perché insomma io ho cominciato da sotto zero ed è giusto così perché nella vita devi imparare, devi fare la gavetta, devi lavorare proprio on the road, per la strada, prendendo da tutti, ecco, devi essere una spugna. Io ho lavorato con giornalisti importanti, con personaggi sicuramente importanti del giornale, poi della televisione e questo fa sicuramente bene. Lei ospita spesso dei famosi musicisti appunto, dicevamo, l'inversione dei ruoli, di solito l'intervista a lei. Qual è l'importanza che ha dato alla musica una persona che comunque dimostra di interessarsi molto all'arte? Ma io spero che sia tanta l'importanza che ho dato alla musica e questo bisognerebbe chiederlo ai musicisti, però ti posso dire che tutti i musicisti, tutti gli artisti, tutti i cantanti, anche molto importanti che vengono qui insieme ci ringraziano. Capisci bene che all'inizio quando abbiamo cominciato era molto difficile avere ospiti nazionali perché c'era sempre questa visione un po' distorta della televisione di periferia, di provincia, del sud. Tutti dicevano ma dove stiamo andando? Ma come a fare? Ma unnisemo? Poi invece devo dire che la professionalità di questa azienda che è straordinaria, quindi la professionalità di Antenna Sicilia e di tutti i suoi dipendenti che ringrazio veramente di cuore anche attraverso la vostra trasmissione che va in onda poi ad Antenna, dicevo, ha invertito proprio questa tendenza. Adesso sono gli artisti che vogliono venire qui, che partecipano volentieri a questo programma perché sanno di trovare una struttura professionale, dei professionisti importanti e anche perché no, un conduttore che poi fa le domande spero giuste e valorizza per l'appunto la musica che ha un ruolo fondamentale. molti quando arrivano in questo teatro dicono innanzitutto che è un teatro meraviglioso che ricorda l'Ariston di Sanremo e che ti dà molto calore perché c'è il pubblico veramente qui vicino pronto ad applaudirti e poi dopo quando vanno via dicono di aver trovato le luci giuste, l'audio giusto, l'amplificazione corretta per cui queste sono belle soddisfazioni che per una trasmissione che nasce in Sicilia e si sviluppa in Sicilia credo sia motivo di grande orgoglio per cui grazie di cuore a tutti questi tecnici che vedi che compongono una grande famiglia che è la nostra. Eppure giornalista, conduttore ma io ho letto che preferisce definirsi un operatore dei media e un comunicatore esatto. Secondo lei quali responsabilità le derivano dal fatto di essere appunto un comunicatore? Quali responsabilità derivano a tutti noi? Tu devi sapere bene e lo sai perché fai bene questo mestiere perché questo aggeggio è straordinariamente pericoloso o straordinariamente positivo nel senso che se tu lo utilizzi bene può diventare un mezzo di comunicazione strepitoso che serve a comunicare cose importanti a dare aiuto alle persone a portare avanti messaggi e valori sicuramente fondamentali se lo utilizzi male può diventare devastante perché il nostro mestiere appunto bello è pericoloso. Io ho sempre voluto fare questo mi piaceva sempre comunque comunicare ti dicevo prima anche ai tempi della scuola e ho cercato di farlo sempre con grande attenzione e grande prudenza tutto quello che tu dici da questo palcoscenico diventa importantissimo perché insieme è per esempio un prodotto vincente che arriva nelle case delle persone che i siciliani e non solo loro seguono con grande passione per cui molte volte quello che dice insieme diventa sicuramente per la gente non dico verità ma quasi allora bisogna fare in modo che questa verità sia quella corretta sia quella giusta o comunque sia quella più giusta per cui è un mestiere importante un mestiere bellissimo un mestiere affascinante però a chi vuole avvicinarsi a questo mestiere dico che bisogna farlo con grande prudenza con grande umiltà con grande onestà intellettuale e professionale verificando sempre tutto quello che si dice e che si fa e soprattutto come ho detto prima rispettando il pubblico rispettando rispettando le persone che ti seguono e che ascoltano con grande attenzione quello che tu dici loro un'altra curiosità io vedo ogni anno la diretta che lei fa da Catania durante i festeggiamenti di Sant'Agata ho letto i post su Facebook abbiamo visto che lei spesso benedice i fan al termine di un post posso chiedere il suo rapporto con la fede qual è? sì assolutamente totale nel senso che io io credo la mia formazione l'ho detto prima è una formazione assolutamente religiosa cristiana perché ho fatto tutte le scuole ai Salesiani e sono contentissimo di averlo fatto per tutti quei valori e quei principi che i Salesiani mi hanno dato Don Bosco diceva che bisogna essere buoni cristiani e onesti cittadini quindi credo che in queste quattro parole ci sia veramente poi tutta l'essenza di una persona di una persona comune se veramente noi fossimo tutti buoni cristiani e soprattutto anche in questo caso onesti cittadini credo che la società andrebbe molto meglio per cui io credo e cerco chiaramente non mi sento in grado di fare prediche per carità né mi sento perfetto assolutamente però ci credo e mi piace anche trasmettere qualche principio di questo tipo io quest'anno farò la ventunesima diretta della festa di Sant'Agata dal 91 ad oggi quella è lo dico sempre per noi una testimonianza di fede un atto di fede che facciamo sia io che tutti i tecnici che lavorano per ore ed ore anche in condizioni spesso disagiate perché portiamo il messaggio di Sant'Agata soprattutto a tutte quelle persone che magari non possono uscire di casa per vari motivi per cui diventa un grande servizio proprio una testimonianza un atto di fede nei confronti di Sant'Agata poi il fatto che io scrivo appunto affettuosamente e simpaticamente su Facebook o su Twitter che Dio vi benedica l'ho spiegato prima mi deriva proprio da questo bellissimo ricordo che ho di tutte e due le nonne sia di nonna Venera che di nonna Palma che quando mi vedevano soprattutto la nonna Venera ma anche l'altra mi dicevano un signore di Binevici perché veramente era questa come dire questa generosità e questo affetto della nonna che metteva il proprio nipote il proprio figlio il proprio parente nelle mani del Signore quindi è una cosa che mi piace fare che Dio vi benedica mi piace e lo faccio però la fede è sicuramente importante io dico credo sempre che Dio c'è e non abbandona mai i suoi figli quindi quando non dobbiamo ricordarci di Lui quando abbiamo solo bisogno ma insomma perché c'è sempre c'è sempre ogni giorno sempre abbiamo detto prima 31 anni di carriera e vabbè più o meno dimostra quelli comunque 32 diciamo 32 di giornale dal giornale alla Sicilia e 31 di Antenna Sicilia le prospettive future un altro obiettivo da raggiungere basta no nel senso che ormai si va avanti serenamente sogni nel cassetto ne avevo tanti io mi ritengo un ragazzo fortunato come dice Giovanotti perché sono riuscito a fare nella vita quello che mi piaceva fare dal ragazzino perché io volevo fare questo volevo fare il giornalista volevo fare la televisione volevo fare il comunicatore e ringraziando Dio e anche i miei superiori ci sono riuscito e quindi sono contento perché se tu fai il lavoro che ti piace fare lo fai meglio ti viene tutto più semplice questo è assolutamente normale diciamo che dopo 32 anni di carriera 48 anni pieni di età non è che non abbia come dire più grandi progetti ce li ho però adesso mi piace come dire vivere anche con la mia esperienza valutare meglio le cose spero di portare avanti ancora questo programma fino a quando il pubblico lo vorrà perché poi sono sempre loro i nostri unici giudici fino a quando funzionerà fino a quando avrò anche la salute per farlo perché l'impegno è sicuramente molto forte gravoso costante quotidiano vorrei incrementare questi progetti con l'estero e con il nord Italia per raggiungere quanti più siciliani possibili in giro in giro per il mondo e poi adesso mi piacerebbe anche dedicarmi un po' di più ai miei figli che sono diventati grandi che mi sono un po' scappati nel senso buono del termine nel senso che li ho visti piccoli e me li ritrovo grandissimi però ancora ho da lavorare insomma da sacrificarmi quindi vabbè ci siamo casemo questo è il mio ambiente naturale qualcuno pensa che io dorma qui sì ho una stanzetta là dietro dove io ogni tanto mi riposo no no scherzo però questo lavoro mi piace spero di farlo sempre con la passione giusta quella che ci vuole e noi sicuramente continueremo a seguire insieme a seguire salvo la rosa io le chiedo solo una cosa per la quale ti vorrei rimproverare dopo questa intervista bellissima che tu hai fatto molto bene con le domande giuste col tono giusto con la dizione giusta con la grazia e il garbo giusto però di una cosa ti voglio rimproverare marito sempre lei cosa pensa lei cosa vuole lei chinirici lei 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 come dire aumentando questo gap generazionale che no vabbè grazie per il rispetto un eccesso di educazione no va bene l'ultima l'ultima domanda di urban week signore e signori falla dicendo senti bedro ma tu no dico tu siciliano no tu a me il siciliano piace usarlo io lo uso perché mi piace un intercalare che mi come dire mi permette di arrivare ancora più al cuore della gente noi ce lo possiamo permettere e forse anche questo è un po' il carattere che contraddistingue insieme ultima domanda col tu allora tu salvo la rosa tu vuoi farci un saluto speciale per gli amici di urban week ma assolutamente sì intanto vi ringrazio perché ripeto sono di solito io a intervistare gli altri e quindi quando qualcuno mi chiede un'intervista io sono contento innanzitutto perché mi schifia in qualche modo c'è nel senso che mi viene a dire mi valorizza insomma e quindi sono contento che voi abbiate scelto me per questa intervista e poi sono contento di poter dire al pubblico di urban week che ci aspettiamo un anno migliore quindi auguri di buon anno visto che siamo ancora all'inizio del 2012 vi auguro tutto il bene possibile che tutti i vostri desideri si avverino che sia un 2012 migliore per questa terra meravigliosa che ha bisogno di tante cose e che ha bisogno di maggiore rispetto e quindi grazie di cuore a tutti voi grazie a Mara e grazie a te scuotendo e agitando la testa non sa c'è chi voleva rire ma faceva sembra così voleva dire a me che sono stata troppo prolissa non è vero non è vero siamo andati bene grazie grazie di cuore auguri auguri a tutti seguiteci stiamo insieme in tutti i sensi perché perché fa bene un abbraccio a tutti grazie a tutti